allora vediamoci questo video sono partite di registrare questo video perché finalmente sarò libero su instagram e su tik tok sa che nell'ultima settimana sono rimasto imprigionato nella visione di una serie che di fatto non è che mi sia piaciuta nel vero senso non gli è piaciuta è solo che non riuscivo a smettere di guardarle credetemi una cosa del genere non mi ha mai successo soprattutto non per questo tipo di serie perché oggi voglio parlare di mare fuori mare fuori non è una semplice serie è una fiction rai e specifico questa cosa perché le serie fiction sono cose diverse una fiction aspetta in che senso sono cose diverse è una semplice serie la fiction come quelle che potete trovare sulla rai o su mediaset hanno delle regole specifiche che le differenziano dalle normali serie televisive ad esempio il sangue la rosa è una fiction l'onore il rispetto è una fiction mare fuori è una fiction gomorra la serie oppure romanzo criminale la serie oppure call my agent italia sono serie non lo so non mi convince questa distinzione mi sembra più come posso dire una distinzione da appassionati non sono certo che esista davvero questa distinzione ma che seguono le regole che normalmente sono quelle che si applicano alle serie le fiction ma io io ho visto delle fiction che non seguivano assolutamente le regole delle fiction che lui ha citato non lo so non mi torna questo discorso delle fiction e delle serie mi sa un po come quei discorsi come quando si parla di anime si parla dei filler sono per lo più invenzioni dei fan sono proprio un mondo a parte e adesso andrò a spiegarmi meglio mare fuori è il tentativo della rai di raggiungere un pubblico più giovane di portare la fiction ad un livello successivo ed effettivamente rispetto alle solite fiction che si possono trovare sulla rai e sono tantissime questa è un po più cruda cerca di mandare messaggi più importanti e devo dire in parte vero vero con le classiche dinamiche di questo tipo di prodotto e io ho iniziato a guardare male fuori perché ne parlavano tutti tutti è una cosa incredibile meme parere di persone che dicono che sia una delle serie più belle mai fatte in italia ero rifiutato di guardarla poi guarda che secondo me non è così male se lo diciamo e quacca che voglio dire non è l'ultimo degli stronzi è una persona di cui fido oltre essere un grande amico è troviamo a guardarla spinto un po da questo e dal fatto che magari ci esce fuori un video che interessa la gente le prime puntate mi avevano veramente disgustato ho pensato ma perché perché bello il mare fuori sinceramente le prime puntate danno un quadro molto interessante della serie porta in scena delle vicende interessanti quindi il il figlio di un camorrista che rifiuta quella vita tra l'altro sembra quasi tratta da una storia vera di questo fatto di questo fatto un documentario se non sbaglio pubblicato quello da netflix io non so se si sono ispirati alla storia di questo ragazzo ma la storia di carmine è veramente simile qui anche la storia filippo è curiosa perché vede un tizio che viene da un altro mondo finire in un tritacarne completamente diverso dal suo mondo quindi una situazione interessante poi c'è la tizia che è il ragazzo violento è anche stalker e c'è la vicenda dell'acido in faccia che è una piaga degli ultimi anni più tutto il contesto del recupero dei ragazzi che finiscono in questi carceri giovanili nelle città campane dove c'è lo stato che abbandona le persone la camorra è la mentalità camorristica che domina tra i giovani insomma onestamente non mi sento di dire che i primi episodi siano disgustosi tutt'altro io sinceramente ho avuto un'impressione positiva la frase che tanti mi dicevano è ma vedrai quanto ti affezionare personaggi io sulle prime ho sperato vivamente che la fiction fosse ambientata in un cronia quindi un mondo identico al nostro con la differenza che in italia di poco i personaggi saranno stati fritti sulla sedia elettrica uno dopo l'altro poi mano a mano che andavo avanti mi affezionava personaggi e non capivo perché non capisci perché si affeziona personaggi e c'è una risposta molto semplice vic funzionano per quello ci si affeziona alle vicende io dico che questa serie di fatto non mi è piaciuta non dico una bugia a non gli è piaciuta si affeziona dei personaggi ma non gli è piaciuta così tanti difetti che probabilmente se dovessi stare lancati tutti staremo qui fino a difetti ne ha tanti soprattutto nelle stagioni successive in particolare la terza e la quarta questo video di victor laslo 88 è di più di un anno fa quindi copre fino alla terza credo però ecco le ultime sono le peggiori dal mio punto di vista dinamiche che sono non trash di più eppure io non allora dinamiche trash ce ne sono secondo me c'è un equilibrio alcune dinamiche sono gestite in maniera modesta altre un po meno qualche volta si scale del trash totale ed è vero in alcuni casi invece sono molto azzeccate però insomma non mi sbilancierei così tanto riuscivo a smettere di guardarla ho iniziato questa fiction venerle nella notte tra venerdì scorso e sabato scorso e l'ho finita mercoledì tre stagioni della dunque episodi della durata di un'ora l'uno 12 episodi a stagione quindi circa 36 ore di visione perché ci sono episodi che durano anche più di un ora alcuni che durano 50 minuti quindi di media un'oretta sono circa 36 ore di visione nel giro di cinque giorni non era mai successo io non sono uno che bingia così tanto adesso non gli è mai successo però non gli è piaciuta finivo l'episodio dicevo ma sì dai andiamo avanti e così ancora 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 fino a che in cinque giorni non mi sono scoppiato 36 cazzo di episodi tra l'altro è perché questa fiction abbia avuto questo successo così grande è presto detto esiste dal 2020 siamo alla terza stagione uscita da poco si si fino alla terza stagione sei episodi e sei episodi di due blocchi per ogni stagione prima su replay e poi va in televisione bellissimo bellissimo quindi già è un modo di distribuzione un modo di distribuirla un po ipm di napoli quindi è parlata un po in italiano un po napoletano ma soprattutto ci sono parecchie storie legate alla camorra alle guerre tra clan e dovete sapere che io sono un grandissimo appassionato di questo tipo tra l'altro il penso che il dialogato sia uno dei punti di forza di mare fuori perché comunque dialogato napoletano che non c'entra una sega con il dialogato delle commedie italiane ma è più il dialogato dialettale delle serie degli ultimi anni come appunto comorra il dialogato che ti fa entrare meglio nelle atmosfere e quei tipi di contesti il problema è che è tutto in salsa team essendo dei ragazzini in riformatorio e a un certo punto iniziano ad amare le cose assurde amori improbabili ma scusate c'è questa fobia quando ci sono adolescenti in una serie e ci sono le vicende sentimentali nasce questa fobia totale tra gli appassionati non ho mai capito perché se i protagonisti sono adulti tutto bene e ci sono le vicende sentimentale tutto bene se i protagonisti sono bambini e ci sono le vicende sentimentale tutto bene se ci sono gli adolescenti da trecettini sta cosa non l'ho capito sinceramente l'espressione team non significa niente non sapete quante volte io ho sentito persone a ditare delle serie negativamente usando l'espressione team si mette troppo team ma che cazzo vuol dire ma sono incatenati ad un sistema di narrazione che è fatto proprio male perché la fiction ha delle sue regole come dicevo prima ad esempio se io iniziassi a raccontare ed è successo perché la svetta ha visto un paio di puntate con me e poi ha detto ma guarda sta roba non mi piace ho detto vabbè no ci sta io devo fare il video quindi mi sono messo a guardare più che altro per per fare il video che raccontava no perché io ci va raccontando una valanga di avvenimenti che sono tutti ficcati in una sola puntata come se fosse un armadio troppo stretto e trovessi una montagna questo è vero di vestiti appena appena tolti dallo stendino da ritirare è una roba allucinante le fiction sono così in ogni bellissimo è bellissimo però va detto almeno secondo il mio punto di vista che mare fuori offre delle sottotrame con un po di criterio quindi non troppo a caso come succitate serie come il sangue la rosa e così via un tato succedono tante cose tutte improbabili e si chiudono tutte improbabili voglio sapere quali sono queste cose improbabili di da scalico che però proprio per questo ti metto in voglia di guardare l'episodio successivo ed era così io finivo di guardare l'episodio e dicevo basta sono le 4 devo andare a letto cliffhanger eh ma voglio se una serie ti spinge ti prende ti spinge a guardare l'episodio successivo si via che funziona e non ci stanno altre spiegazioni è un anatema non è una fiction è un cazzo di anatema vi giuro è qualcosa di abbacinante proprio perché ha questa struttura con personaggi che non sono scritti male in sé ma sono messi in scena male il problema è che dopo ma secondo me dipende dai casi delle volte sono messi in scena non tanto bene delle volte bene a volte anche molto bene secondo dei casi vabbè qualche episodio io sono io ho iniziato realmente raffezionando questi personaggi non riuscivo a non voler loro bene nonostante facessero dicessero cose che mi stavano veramente sulle palle io non riuscivo ma attenzione non significa nulla se il personaggio dice o fa una cosa che ti dà fastidio ma non significa che il personaggio è scritto male anzi spesso è proprio quando il personaggio ti dà una reazione negativa ti dà un'emozione negativa è proprio significa proprio che è scritto bene il personaggio non deve fare quello che vuoi tu il personaggio deve essere coerente con quello che viene raccontato deve essere funzionale con quello che viene raccontato a prescindere che faccia cose che sposino meno la tua etica o che sposino meno le tue fantasie sul personaggio a smettere di pensare cosa succederà a quello cosa succederà a quell'altro tra l'altro questo succede quando una storia è scritta in maniera funzionale faccio un esempio un esempio in in game of thrones c'è il personaggio di tyrion lannister ad un certo punto della serie verso metà mono spoiler succede una cosa questo personaggio che a me personalmente mi ha fatto venire una strizza per le sue sorti io ho veramente avuto paura raramente succede quando guardo una serie soprattutto a quest'età ormai ho una strizza allucinante questo proprio perché gli episodi erano scritti benissimo erano girati benissimo erano recitati benissimo la stagione successiva a questi eventi nel giro di qualche episodio del personaggio non me ne fregava più nulla non mi interessano più le sue sorti perché si era abbassato il livello chi ha seguito il trono di spade avrà capito di che momento sto parlando non ci sono altre spiegazioni finiscono come come uno potrebbe aspettarsi da questo tipo di prodotti ci sono tanti personaggi che muoiono e spesso muoiono anche molto male e c'è un continuo ricambio di personaggi attori quindi magari ok questo è vero questo è molto da fiction questo ricambio continuo di attori spesso tra anche nel mezzo della stagione questa è proprio roba da fiction italiana ho capito che è scritto chiaramente da persone che sanno perfettamente quello che fanno sono persone brave a scrivere ma siccome stanno scrivendo una fiction hanno palesemente dovuto piegarsi a certe dinamiche c'è lo vogliono loro la rete dalla produzione però questa è gente che si è vista tante serie c'è una cosa nella terza stagione sul finale della terza stagione che mi ha fatto pensare questi hanno visto quella serie cioè ci sono dei momenti specifici in qui si vede che chi scrive sa quello che sta facendo un po' come in boris di persone solitamente over 40 però ci hanno ficcato anche delle cose che sono obiettivamente interessanti ci sono alcuni risvolti di trama che a me hanno sorpreso soprattutto ci sono certi momenti che mi hanno quasi cavato fuori la lacrima perché sono costruiti molto bene quindi non posso dire che male fuori mi sia effettivamente piaciuta ma non posso dire che male fuori mi sia effettivamente piaciuta ma non posso dire che non sia una serie scritta in modo che ti dia una sorta di dipendenza tu vuoi sapere cosa succede a quel personaggio vuoi sapere tutto è questo è questo eh vabbè guaglio ma se a queste condizioni non ti piace mi sembra un po' strano poi c'è un altro grande elemento che è un vantaggio per questa fiction che è la colonna sonora la colonna sonora cazzo si curata da stefano lentini che è un compositore non strano che lavorato anche ottime song delle host davvero di alto livello ce ne sono alcune che a me fanno impazzire possiamo dire che il cavallo da battaglia di mare fuori la colonna sonora sigla che è omar fuori che è di stefano lentini cantata da matteo paolillo che è l'attore che è poi c'è doie mani stefano lentini bellissima colonna sonora con un piccolo difetto che a onor del vero era anche il difetto che aveva gomorra ovvero hanno tre quattro brani e li ripetono all'infinito è vero ma sia quelli di mare fuori che sia quelli di gomorra sono così ben fatti che non ci si stanca ad ascoltarli ma poi alla fine questo è il modello delle host degli anime di molti anime insomma quindi di riutilizzare spessissimo le stesse host senza preoccuparsi che una si sia sentita 10-20 volte nel corso delle puntate in una puntata le risenti 40 volte però c'è anche venere sempre di lentini dopo un po' sei lì che sei seduto tu sui stessi però venere io ho notato che non si sente più dopo almeno un paio di stagioni forse addirittura dopo la prima non lo so comunque a un certo punto venere scompare tanto è che mi stavo chiedendo mentre la seguivo ma come mai non si sente più quella lì quindi è una fiction che ha tanti tantissimi problemi ma lo stesso non si può non guardare e molti mi dicevano sì sì vedrai 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 quanto ti affezioni ai personaggi io dicevo ragazzi i personaggi fanno cagare non mi piacciono perché perché fanno cagare minimamente sono fastidiosissimi e la gente sì certo certo io non sono come loro io sono più forte io non so no non è vero sono esattamente come tutti gli altri il punto qual è il punto è che tanti mi dicevano e poi la recitazione è fantastica su questo mi permettono di sentire allora oddio la recitazione media è media secondo me c'è un livello di recitazione generalmente buono però insomma però insomma non sempre non sempre ci sono anche delle scene in cui la recitazione lascia il tempo che trova per dire i giovani attori secondo me sono per lo più tutti bravi però si vedono i limiti in alcuni punti ma ci sono alcuni che non mi sono dispiaciuti tipo quello che interpreta Beppe quello che interpreta il comandante la Crescentini che interpreta la Crescentini non mi convinceva all'inizio non mi convinceva quando è tutta stronzola all'inizio a parte che non mi convinceva per niente la camminata può sembrare una cavolata questa cosa della camminata però cioè guardatevi guardatevi dottor Haos ma guardate quanto è curata la camminata di Haos nel corso delle puntate e in tutte e otto le stagioni io ci ho fatto sempre molto caso ma nelle ultime visioni in particolare colare nell'ultima visione di dottor Haos ho fatto molta più attenzione a questi particolari la sua camminata tutte le volte che ingerisce il vicodi quindi una costruzione pazzesca ma sto divagando la direttrice inizialmente mi stava dando fastidio come personaggio perché io lo trovo anche un po' sessista nei primi episodi perché trattava malissimo Filippo Cattillo per quello che aveva fatto trattava malissimo i ragazzi ma quando erano le ragazze diventavano zucchero e mi dicevo ma scusa perché i ragazzi trattano così e le ragazze così cioè che è sto sessismo ma poi all'improvviso sembra che abbiano quasi cambiato caratterizzazione personale ed è diventato più gentile, più interessante verissimo verissimo d'accordissimo importante anche a livello di trama e va bene per quanto riguarda i ragazzi alcuni sono sicuramente bravi un personaggio che detestavo che ho amato tantissimo è Pino Pazzo sì ma non è che almeno per come la vedo io non è che Pino è un personaggio detestabile nel senso o meglio è detestabile che ti viene da odiarlo ma in senso positivo cioè nel senso che il personaggio è funzionale un po' come riusando analogie con il trono di spade Geoffrey lo abbiamo odiato tutti ma l'abbiamo odiato tutti proprio perché l'ha fatto bene vabbè Pino non è a livello di Geoffrey però per capirsi anche qui sono stra d'accordo nella terza stagione si vede proprio che gli hanno detto devi fare questo devi avere questa caratterizzazione qui e gli hanno messo la cosa che offre le caratterizzazioni è vero nella terza stagione mamma mia c'è stata una scena di Carmine che ho gli incubi ancora e quella scena dove fa così con le braccia per sfottere Sofia Ricci è terribile e poi cioè nella quella che ti avete una dita è molto brava vero ad esempio tutti erano pazzi per il personaggio di Viola per me Viola è un personaggio che non ha mai avuto granchi senso personaggio che non lo so sembrava che gli dovessero dare una parte importante ma poi boh se la sono persa di strada dicono tutti attrice bravissima secondo me no tra l'altro non sono riusciti minimamente a a far intendere perché il personaggio fosse temuto da alcune detenute non è che io l'abbia capito per cui ci sono alcuni attori che sono bravini tipo per me il più bravo è quello che interpreta Ciro Ricci assolutamente d'accordo era l'attore era quello più Ciro e Edoardo sono i più credibili secondo me poi per l'amor del cielo c'è anche quello che interpretava Pirucchio Totò poi nella terza stagione sono arrivati Micciarella Doberman e Cucciolo anche lì per essere una piccola anche di seguito delle tematiche interessanti ad esempio soprattutto nella seconda e terza stagione viene sempre fatto vedere in maniera più evidente quanto sia difficile per molti ragazzini che vivono a Napoli uscire da certi giri non ho ancora capito ripensato all'inizio a chi si riferiva quando diceva personaggi di merda non l'ho capito certo è forse straridondante il messaggio quello che volete però effettivamente contro ogni mia aspettativa c'erano dei momenti in cui questo messaggio veniva espresso in maniera puntuale precisa effettivamente e poi anche tutta la questione delle guerre tra clan quella è fatta veramente secondo me in maniera ma davvero didascalica davvero clichettosa sì anche perché la situazione diventa abbastanza irrealistica a un certo punto soprattutto quando ci vorrebbero far credere che personaggio X adolescente in galera debba avere il controllo del clan all'esterno è abbastanza assurdo nella terza stagione la questione Filippo e Nadizza stavano annoiando ogni volta che l'attenzione si spostava su di loro non vede loro che si ritornasse all'interno dell'IPM sì è l'effetto prison break le situazioni all'interno del carcere sono le più interessanti quelle fuori non quanto poi tra l'altro si sono resi conto da una stagione all'altra che avevano visto che l'IPM diventa un villaggio turistico cioè da che all'inizio maschi e femmine non potevano mai stare insieme neanche negli spazi comuni all'improvviso ci sono sempre più scene di maschi e femmine negli spazi comuni è vero e questo è un altro degli aspetti in cui Marefuori è divenuta meno realistica nel corso delle stagioni quindi il fatto che l'applicazione delle regole diventi sempre più superficiale meno tenuta in considerazione a parte il fatto che si sono cominciati a dimenticare dei processi e di tutte quelle cose lì all'inizio si parlava sempre dei processi magistrati poi col passare delle stagioni sembra che i processi siano morti non esistono più tra l'altro mi è venuto in mente che a proposito di fiction il personaggio di cavolo non mi sta venendo il nome la guardia un po' anzianotta ecco quello lì è il perfetto modello di linea comica delle fiction italiane la linea comica sinceramente rimango è una fiction che mi ha coinvolto indubbiamente ma che allo stesso tempo mi ha fatto pensare ma che cazzo sto guardando questo ogni circa 30 secondi però poi la scrittura di certi personaggi per quanto assurda a tratti mi ha catturato quindi mi è piaciuto amare fuori no cioè no no mi è coinvolto mi sono affezionato mi ha fatto scappare dalla chiamoccia ma non mi è piaciuto no perché ha quelle dinamiche da del cazzo tipo c'è una roba che adesso vi dirò nella parte spoiler che per me è assurda cioè dico ma perché mi metti sta roba qua riguarda il personaggio di cubra il personaggio di cubra che senta proprio ciò che non funziona nelle fiction cioè sinceramente non ho capito cosa si sta riferendo è queste cazzate assolutamente improbabili assolutamente impossibili poi il personaggio per amore di dio ha anche qualcosa ah ok forse è un'idea c'è la questione del rapporto con la madre che per me non è gestita malissimo cioè è gestita malissimo da un lato e bene dall'altro è incredibile come victor laslo 88 ogni volta che è sul punto di distruggere mare fuori poi però si ferma e lima la sua critica perché in fondo non è così male è sincero per questo ci piace però non gli è piaciuta che se voi non guardate fiction iniziate pensate che merda al primo episodio che merda al secondo che merda al terzo che merda al quarto io sinceramente non la condivido questa questa sua osservazione perché secondo me i primi episodi funzionano io dico la verità sono rimasto molto convinto dall'apertura della serie anzi secondo me la prima stagione è è la migliore perché è quella più realistica anche più riuscita ma che ve ne rendete conto se il stesso episodio mi sta facendo comunque schifo arrivati a ottavo episodio dite mamma mia che monnezza e mettete sul nono in me che non si dite che dica siete a metà della seconda stagione a dire mamma che brutta ma continuate a guardarla questa sera ma ragazzi qui siccome siamo sul mentire a se stessi a se stessi cioè se è una serie mi prende ragazzi vi piace punto non ci si può appassionare a una cosa che non ci piace levatevelo dalla testa di solito nelle fiction quando i personaggi muoiono è solo perché l'attore o l'attrice ha deciso che non voleva più continuare allora magari accade l'incidente tragico ma finché non succede quello i personaggi li portano avanti all'infinito qui invece quando un personaggio se ne va per qualche motivo è perché la storia lo richiedeva ed è per questo che io dico che chi ha scritto questa serie sapeva quello che stava facendo semplicemente si è dovuto piegare delle dinamiche che purtroppo sono molto stringenti però alla fine della fiera il risultato su certi personaggi se lo sono portati tranquillamente a casa e questa cosa mi ha eeeh io non ho capito io non ho capito perché diceva all'inizio che i personaggi fanno schifo cioè mi sembra che bene o male li abbia promossi quasi tutti insomma quelli che contano sorpreso per cui è una fiction che consiglierei no nel senso che non voglio che altre persone cadano in questo tunnel mostuoso ragazzi qua bisogna sbilanciarsi io la consiglio basta con questo snobismo dell'appassionato dell'internet e ragazzi se io che detesto le fiction e che non le sopporto mi sono ritrovato a guardare in 5 giorni una serie di 3 giorni che secondo me non sono fatti così male e che valorizzano certe scene particolarmente drammatiche però no non la definirei una buona regia diciamo che è una regia che rispetto al livello media della fiction media è un pochino più interessante capisco che ci voglia poco nel senso che la media delle fiction è talmente bassa che basta ma sapete qui tra Boris e un po' il fandom internettiano si è un po' creata una generalizzazione delle fiction cioè spiego quello che veniva detto da Boris e quello che sto contestato alle fiction italiane al modello era vero forse oggi le cose sono un po' cambiate però attenzione non è che tutte le fiction erano così c'erano le fiction che erano diverse non avevano quelle strutture faccio un esempio il capo dei capi non ha quella struttura la struttura delle fiction non ce l'ha forse in qualche piccolo frangente quindi insomma mi sembra che sia diventata una generalizzazione esagerata benché fondata su base solide e so che questa fiction è un po' sopra rispetto alla media ma vabbè comunque sia questo è il discorso generale adesso vorrei fare un discorso un po' più spoileroso per spiegarvi alcune cose che vi ho accennato nella parte non spoiler quindi così forse capiamo quali sono questi personaggi orribili di cui parlava vabbè a parte ha detto Viola però Viola non è un personaggio così importante per come l'hanno usato poi aveva citato Cubra quindi sono curioso di sapere Cubra la storia di Ciro non era male perché comunque questo ragazzo che è cresciuto nella famiglia Ricci famiglia di camorristi che fino a quando era bambino lo hanno educato che gli infami si ammazzano ecco io credo che nella prima stagione abbiano fatto veramente un buon lavoro discorso con questo contesto tristemente realistico delle famiglie camorriste dell'onore tutte queste cose qui era al centro di tutto Filippo Occhiattillo questo ragazzetto quindi Filippo viene chiamato Occhiattillo che vuol dire il bravo ragazzo e praticamente inizia inizia a venire vessato e diventa amico con Carmine Carmine è un altro personaggio interessante perché e quindi anche Filippo è un personaggio interessante e Carmine pure interessante perché lui fa parte della famiglia rivale di Ricci facendo del male alla sua ragazza quindi lui è in galera perché è entrato nel sistema contro la sua volontà poi ripeto è una vicenda quella di Carmine non crediate che sia così realistica anzi come dicevo c'è questo documentario su Netflix basato su queste zone campane distrutte dalla camorra in cui c'è questo ragazzo che appartiene a un nucleo familiare camorristico e non ne vuole avere niente a che fare quindi viene disonorato dalla famiglia quando è per strada rischia perché quelli dei clan opposti lo vogliono far fuori anche se lui non ne vuole sapere niente addirittura mi pare che si trasferì all'estero perché questo voleva fare il pizzaiolo insomma guardatevelo perché è veramente interessante poi ripeto non mi ricordo se quelli di Marefore si sono ispirati proprio a questa storia oppure se è una coincidenza non mi ricordo Pardo che è un affiliato della famiglia Ricci Pino Pazzo che è un cane sciolto poi c'è Pirucchio Totò Milos sono tutti personaggi che comunque hanno qualcosa interessante ad esempio Pirucchio ti piacciono tutti quali sono i personaggi che non ti piacciono sono Viola fino a che non è diventato uno dei sospettati dell'omicidio di Mina la neo moglie quindi di Carmine poi si scopre che è stato Totò c'è tutta quella parte della seconda stagione dell'investigazione su chi è stato è abbastanza ridicola però vero ok sono d'accordo qui diciamo vengono anche usati i classici cliché delle serie attenzione non necessariamente serie italiane queste robe le vedo anche nelle serie americane quindi c'è tipo il tizio che dice ho un amico che lavora lì e mi deve un favore quindi ci sono questi cliché assordi queste soluzioni facilone diciamo che sono soluzioni che comunque giustificano quanto stai vedendo quindi quindi le cose tornano ma lasciano il tempo che trovano tutti pensano che sia stato Daitano Pirucchio e in realtà è stato Totò ma anche il fatto di Totò che si rende conto solo che Filippo non riesce a fare questi ai suoi genitori dice al padre cosa è successo il padre da fuoco da fuoco la macchina facendo finta che gli era rubata e quindi ha fottuto il padre che poi scompare il personaggio del padre scompare completamente da mare fuori questo è un altro elemento che secondo me ha indebolito il personaggio di Filippo perché sono andati a tagliare tutto ciò che era esterno alla sua vita nel carcere ad esempio non si è neanche più parlato del processo non si è più parlato del fatto della famiglia del ragazzo che è accidentalmente ucciso questo è un elemento che a mio dire è un po' deludente bellissimo Pino che non si chiede neanche chi gli ha messo i soldi rivolta carceraria Ciro con i vari personaggi che cercano di sedarla addirittura prendono in ostaggio la direttrice che è per l'appunto interpretata Carolina Crescentini tutta la scena della rivolta non è fatta male anche ma io direi che è fatta molto bene la scelta delle luci che sono le luci di emergenza che sono quasi sul blu viola che danno un'aura sorella al tutto quella scena quella parte non è fatta male è anche coinvolgente quindi ma io sarei dire che è anche bellissima c'è poi quella colonna sonora pazzesca che sarebbe la rivolta per l'appunto che è veramente una bomba io personalmente l'ho trovata una chiusura perfetta della prima stagione attenzione mi riferisco però alla scena della tutta la parte della rivolta in prigione non al finale vero e proprio dell'episodio finale della prima stagione che anzi quello secondo me è un gradino indietro cioè quando gli uomini di Valletta vanno a uccidere Carmine quella è una roba un po' così però tutta la parte della rivolta è veramente secondo me è il massimo che è andato male fuori ed è tra l'altro quella parte lì la chiusura perfetta della prima stagione e secondo me potevano tranquillamente togliere quel finale lì di Carmine che viene sparato che Ciro sta per ammazzare Carmine ma occhiattillo lo pugnala col cacciavite e dice questa scena con questa scena mi è piaciuta molto perché è Ciro che dice dite a mio padre che io non ho tenuto non tenevo paura però poi in realtà si mette a piangere e chiama dice non voglio morire non voglio morire muore quindi sono rimasto anche piuttosto sorpreso ma sì è uno spaccato molto riuscito del figlio di un mafioso che è rimasto radicato in quella mentalità e non ne riesce a uscire fino alla morte nel vedere che mi hanno ammazzato Ciro perché è un personaggio importante nella prima stagione e te ne ammazzano perché poi l'attore l'attore continua a comparire nei flashback quel cui è una mera una mera diciamo sì con Ciro succede l'effetto flashback che diventa positivo questa cosa succede sempre nelle serie non in italiana in tutte le serie intendo dove c'è il malvagio che una volta morto quando viene mostrato nei flashback assume quasi una forma positiva ci avete mai fatto caso scelta narrativa ma non è come nella casa di carta in cui Berlino moriva alla fine delle prime due parti e poi siccome Netflix ha acquisito i diritti per fare le parti successive Netflix che ha acquisito i diritti ha distrutto una serie che nonostante fosse realizzata da una tv generalista per un pubblico generalista funzionava stavo parlando della casa di carta e che Netflix ha completamente deflagrato con quelle tre stagioni che ha aggiunto a me è un po' dispiace perché la casa di carta fino le prime due stagioni che sono tra l'altro il primo colpo non so niente male poi Netflix l'ha deflagrata e ne ha completamente rovinato l'immagine e a me questo dà molto fastidio soprattutto perché il mondo degli appassionati da questo punto di vista è tossico quando una cosa viene marchiata dal declino di quella cosa si ricorda solo il declino se ne parlerà male all'infinito questa cosa è insopportabile a me hanno fatto schifo le stagioni 3, 4 e 5 della casa di carta se non per poche cose ma ciò non toglie che le prime due funzionavano e quindi per me non cambia niente le prime due stagioni sono comunque valide andiamo avanti l'hanno continuato a inserire perché era un personaggio amatissimo perché l'idea era che non proseguisse da lì cioè dopo Berlino se ne andava si tra l'altro i flashback di Berlino secondo me mostrano un personaggio che non c'entra un cazzo con quello che si era visto nella prima stagione cioè nella prima stagione avevano rappresentato un fascista tra l'altro completamente incapace di fare piani nelle stagioni successive quando viene inserito nei flashback lui improvvisamente gli atteggiamenti da neofascista non ce l'ha più ma poi diventa lui la mente che realizza i piani complessi ci avete fatto caso di questa cosa? cioè lui che spiega i piani al professore ma è assurdo ma stiamo divagando la storia secondo gli autori era finita non doveva continuare poi Netflix ha portato avanti la serie e si sono trovati costati in serie nei flashback qua invece è proprio un'esigenza della narrazione Ciro Ciro vero deve morire perché è giusto che succeda perché così si racconta al pubblico il fatto che questi ragazzi fanno delle scelte che li portano spesso alla morte bellissimo l'altro la scena anche di Massimo che chiama tutti i ragazzi e mostra il cadavere di Ciro l'avranno anche fatta troppo emotiva però cavolo è bella anche se il personaggio era amato doveva comunque morire io questo lo rispetto perché poi me lo inserisco in the flashback che sono assolutamente sensati non come quelli di Berlino nella casa di carta se lo hanno capito in una fiction ride mi chiedono come abbiano fatto a non capirlo per la casa di carta ma questo è un altro discorso quindi secondo me con Ciro hanno fatto un buonissimo lavoro Edoardo è un altro personaggio che mi piace molto che si evolve tantissimo e diciamo che io sto ancora aspettando quando parla dei personaggi mal riusciti ma li sta promuovendo tutti adesso strada d'amore stile Rome e Giulietta se la potevano veramente evitare la terza stagione ha dei livelli sono d'accordo di trash abbastanza elevati bellissimo poi madonna mia nella quarta vabbè lui lui si fermerà alla terza in questo video comunque nella quarta hanno toccato l'apice del trash con quella scena orribile di cardio trap e come cavolo si chiama la rapper comunque sia quella lì dell'incendio una scena orribile da tutti i punti di vista per messi in scena per scrittura non ha proprio senso non ha proprio senso stando in questo posto che sembra tipo all'esterno della prigione invece sembra all'interno non si sa perché il contratto dovrebbe essere in quel posto non si sa perché la rapper picca l'incendio loro hanno giustificato il fatto che lei è un po' piromane vabbè quello ci poteva stare ma è proprio tutto il resto che non ha senso anche la scena di cardio trap c'è una di noi ma proprio orribile cioè quando ho visto quella scena proprio penso che abbiano toccato il fondo fermo restando che io a me mare fuori piace e la seguo con molto piacere anche fino anche alla quarta cioè il chiatillo torna a essere un personaggio interessante quando verso la fine della terza stagione torna all'ipm è vero quando Nadizza per salvarlo perché ha capito che lui stava prendendo una brutta china se stava fuori con lei se ne va lo abbandona lui torna all'ipm ed ecco che torna a essere un personaggio interessante purtroppo il chiatillo e il Nadizza hanno avuto una fine indegna nel senso mi sto riferendo alla scena in cui il chiatillo se ne va probabilmente ci arriverà lui vediamo altro prima vi dico una cosa poi torno sul chiatillo quindi Rosarice Carmine si stanno un po' avvicinando perché Carmine dice tu non sei come loro devi smettere arriva Salvatore Conte che mette un mano la pistola e dice acciralo e lei punta la pistola contro il padre e quindi la macchina la presa va oltre le colonne e sentiamo uno sparo e non so più classico cliché della camera che si sposta e poi si sente il rumore di uno sparo poi cos'è successo questa è una tracciata mostruosa concordo nel frattempo è cambiata a direttrice Paola viene sostituita da Sofia che è questo nuovo personaggio che è un agente di polizia che si era infiltrato sotto copertura fingendosi un'educa e questa arriva inizia quando ci sono magari le risse tra i vari detenuti a atterrarli con i calci volanti li prende gli spacca la faccia contro il tavolo e io quando ho visto se ce l'ho detto ma questa che cazzo è c'è anche una orrisin gonnella ma chi sono un personaggio di risso è un personaggio di risso vede la morte in faccia e quindi dice io non voglio morire lui viene da una famiglia normale e pensa che il suo genitore sia un carlino sta per ammazzarlo però si rende conto che vuole uscire da quella vita quindi riesce a farsi assumere in una pizzeria ed è anche bravo a fare le pizze tra l'altro c'è il pizzaiolo che è un altro comic relief guardo intanto ha preso il comando dopo che morto Ciro vuole a tutti i costi coperucchio ammazzi Mimmo che è un personaggio che viene introdotto poi dopo Mimmo è un nome molto famoso qui a Taranto mi è stupito sentirlo in una serie napoletana è un personaggio che sostanzialmente è introdotto nella seconda stagione a tutti perché Edoardo intanto ha preso il comando dopo che morto Ciro vuole a tutti i costi coperucchio ammazzi Mimmo che è un personaggio che viene introdotto poi dopo ed è un personaggio che sostanzialmente è introdotto nella seconda stagione che fa il doppio gioco tra i viceconte e vende ai di salvo Edoardo perché alla fine della seconda stagione Edoardo e Filippo scusate Filippo e Carmine scoprono che Edoardo sta per fuggire col furgone della spazzatura gli tirano una botta in testa si buttano sul furgoncino e vanno via loro solo che il furgoncino poi viene attaccato dai di salvo Ecco quella è una scena che ho trovato un po' in realistica cioè mi riferisco a Echiatillo e Carmine perché cioè questi qua erano spaventatissimi quando Edoardo cerca di ucciderli era molto realistica infatti la scena qui invece vengono sparati mentre sono nel furgone e dopo due secondi ridono questo è proprio l'esempio di perdita di realismo di una serie fa bene che erano i personaggi erano maturati però insomma passare da un estremo all'altro toglie il realismo toglie il senso di realismo e quindi Mimmo è un personaggio che per l'appunto poi gli ho sviluppato molto e Edoardo dice devi ammazzare Piruffio perché Piruffio viene messo in prova fatto uscita libertà vigilata e gli dice tu devi ammazzare Mimmo ma Piruffio non vuole e quindi cosa fa vada Mimmo quando Mimmo è impermesso fa per sparargli Mimmo di contro gli spara per difendersi ma scopre che Gaetano Piruffio aveva tolto i proiettili e dice dia mio genitore dia mio padre che non era un assassino e nella terza stagione c'è questa scena che a me obiettivamente ha commosso perché si è commosso di nuovo però la serie non gli piace non gli piace con Mimmo che quando i genitori di Piruffio arrivano dicendo che hanno creato una onlus per aiutare i ragazzi in difficoltà ad abbandonare la strada della camorra della mafia della strada lui dice vi devo parlare e spiega che insomma io l'ho trovata un po' una ripetizione quella scena mi è sembrata la ripetizione di una scena precedente in cui i genitori di Piruffio vanno nel carcere c'era stata quella scena a mio dire troppo emotiva ma comunque vabbè ha sparato per difesa non voleva uccidere non avrebbe mai voluto farlo e ha detto vostro figlio ci teneva è forte perché Piruffio era un personaggio che poteva dare ancora qualcosa ma narrativamente aveva più senso ammazzarlo perché ormai aveva un po' esaudito quel tipo di funzione e la sua morte è più funzionale di quello che poteva fare da vivo il personaggio perché la sua morte è un messaggio molto potente niente da dire quindi quindi anche anche Mimmo e Pirucchio lo hanno convinto quali sono i personaggi brutti? anche le cazzatone ad esempio la questione di Viola che si è una psicopatica che cerca di fare quanto più male possibile alle persone perché lei è il personaggio di Viola al di là che come detto non è scritto benissimo mi ricorda molto quel film spagnolo che se non sbaglio si chiama Bad Time Bad Time quello lì con Tozar di Balagueró che c'è praticamente questo tizio che soffre di depressione e l'unica cosa che lo rende felice è la tristezza delle altre persone quindi uno che si nutre del dolore delle altre persone e quindi mi ha ricordato quel film sua migliore amica perché era felice di avere il ragazzo si salva la figlia di Carmine Viola cade si aggrappa al conicione e poi si lascia andare e muore quel personaggio per me non è mai stato sviluppato come avrebbero dovuto avrebbero potuto fare qualcosa di più con Viola e a un certo punto secondo me l'hanno ammazzata perché hanno capito che non sapevano più che cazzo farci questa è l'unica morte che secondo me non è dettata da una vera e propria esigenza inadattiva ma proprio dal fatto che non sapevano più cosa fare ho avuto la stessa impressione con quel personaggio la stavano portando avanti sempre uguale arriva Gemma che è la ragazza che era bloccata ovvero Cardiotrap la crepa di Mazzatel che Gianni che anche lui permesso sa di questa cosa va all'albergo per parlare con Fabio e inizia a picchiarsi e ovviamente accade il dramma Gianni lo spinge questo vola giù la baraustra e si schiaccia si schianta sugli scogli sottostanti quindi Cardiotrap è un altro bel personaggio perché è un è un bel personaggio Cardiotrap e quindi solo Viola non gli è piaciuto e va avanti che con il chiatillo compone pezzi e poi arriva però il personaggio di Crazy Jay che è questa trapper della zona di Milano che gli fotte il pezzo con l'aiuto di una discografica che era andata lì in carcere minorile per trovare nuovi talenti insomma da questa breve descrizione capite qual è il grosso problema di Mare Fuori 150 cose la metà delle quali improbabile che succedono nel giro di un episodio solo vabbè oddio la sottotoma di Crazy Jay cioè quella lì che si fotte il pezzo non mi sembra neanche così assurda è proprio una fiction però ci sono anche delle cose interessanti ha fatto anche cose buone ci sono delle cose anche interessanti cioè non si può negare che questa fiction abbia un valore però ci sono anche delle cose tipo la cosa di Cubra di cui io parlavo prima arrivo questa ragazza che ha una madre prostituta che si prostituisce sempre con questo dottore che ha detto che le dà una casa popolare a 100 euro al mese ma in cambio vuole farsi anche la figlia quando la madre dice alla figlia che deve andare con quel dottore lei sta tagliando il pane si gira e la coltella la madre però sopravvive ma cosa scopriamo scopriamo che Beppe l'educatore che è un bel personaggio per amore del cielo 17 anni anche Beppe è un bel personaggio era fidanzato con la madre di Cubra seguiva invece la via del figlio di papà perché Beppe è di famiglia e si è chiamata la tifa con Cubra ok prima vediamo la tifa con Cubra poi scopriamo che era la compagna di Beppe e quindi Cubra è la figlia di Beppe e questa cosa dell'accoltellamento alla madre è venuta ostia e però l'hanno mandata guarda caso visto che ha avuto problemi all'IPM di Roma all'IPM di Napoli proprio dove lavora suo padre questa è una minchiata esagerata ok è vero è vero è vero ma poi ci sono anche dei cengio valt di certi personaggi che non si capiscono bene tipo Pino Pazzo inizialmente era cattivissimo oltretutto abusa sessualmente del chiattillo lo costringe a fare di una sega il chiattillo di questa cosa si dimenticherà e diventerà migliore amico di Pino infatti anche a me ha stranito inoltre mi ha sollevato il fatto che a un certo punto tra la seconda e la terza stagione si rivede un po' quel lato violento di Pino che era stato messo da parte diventa grande amico di Carmine e Chiatira è un bel personaggio non fosse che anche Pino è un bel personaggio della questione della violenza sessuale non se ne parlerà mai più io dico risolvilo al minimo facciamo finta che non è esistita tanto no boh oppure anche la storia d'amore di Pino con Cubra diventa un po' ripetitiva dopo un po' cioè Pino con Cubra poi arriva Doberman insieme a Cucciolo e Micerella che non sono male come personaggi nemmeno loro chi sono i personaggi brutti Doberman è un ragazzo nigeriano quindi come Cubra ha qualcosa in comune con lei e si vede Pino che diventa geloso Cubra è arrabbiata perché Pino è geloso e c'è rifiutato di me e poi vediamo i due che si abbraccia poi la fine però comunque il fatto è che vediamo poi Doberman che parla con i suoi amici dice non interessa se Pino e Cubra si vogliono bene io prima o poi come la prendo con questa con questa faccia che si chiama Sasa che c'è nella seconda stagione che nella terza non c'è più io l'ho trovato devo dire un personaggio abbastanza interessante se poi non compare più perché oggettivamente la sua storia si doveva concludere lì beh a me è piaciuto come personaggio mi è piaciuta proprio tutta la storia in carcere per via di una violenza sessuale danni di una ragazzina che lui dice e c'è questa scena in cui Lino dopo aver fatto sesso con la madre di Sasa se ne va è tutta sorridente quando Lino se ne va c'è l'incoratura su di lei che muta il sorriso in una smorfia complottistica per far capire che in realtà ha brutte intenzioni c'è la scena in cui si sospetta che Pirucchi abbia ucciso Lina e c'è questa incoratura su di lui con la faccia cattiva delle robe di un didascalico che fanno paura che sono tipiche delle fiction vabbè dai ma queste sono questi sono cliché anche molto molto americani cioè queste robe le abbiamo viste nelle serie americane ragazzi ad esempio io non sopporto quel cliché delle serie americane dell'inquadratura sul personaggio che si vede e poi il personaggio che sorride nel trono di spade nelle ultime stagioni ne hanno messe a bizzeffe di queste scene mi avevamo veramente rotto il cazzo le trovo fastidiosissime c'era tipo Aria che vede i draghi e poi sorride che cazzo ti ridi insomma queste cose qui non direi che sono cliché delle fiction italiane sono cliché delle serie secondo me sono robe ereditate dall'america però intanto con questa storia di Sasa ti parlano di violenza sessuale Milos era innamorato di Luna una ragazza trans peraltro una cosa che ho apprezzato è che perlomeno ti fanno vedere un personaggio trans che non è il solito stereotipo del trans che fa la prostituta è una ragazza come non dargli ragioni la colpa io sono minorenne vai tranquilla quindi è anche interessante che si parli di un rapporto tra un ragazzo tra un ragazzo cisgender e una ragazza trans senza però il solito stereotipo capito? hanno cercato di fare qualcosa di un po' più interessante oppure il fatto che Milos e Cucciolo iniziano a stare insieme perché si trovano sono due persone che hanno sempre dovuto far finta di essere eterosessuali quindi in un certo senso ti parla anche di questo non è una cosa che ti aspetteresti da una fiction rai mettiamola così quindi qualcosa di interessante esce ma lei dette 150.000 di cose interessanti hai fatto una montagna di cose interessanti c'hai costruito un albero di Natale da tutto questo poi tutta la parte di Rosarici lei a cui Carmine insegna che non deve per forza stare dietro alla famiglia in quel modo non è male nel senso che alcune cose alcuni messaggi arrivano anche la cosa di Nadizza dei genitori che la vogliono che sono zingari che la vogliono vendere per soldi al miglior offerente in matrimonio anche quella parte ha un suo perché un suo quid quindi ci sono tante evoluzioni poi per quanto riguarda le storie dei ragazzi c'è la storia di Gemma anche lì si parla di relazioni tossiche cioè tu Gemma ti viene a dire ma che cazzo fai però effettivamente è un problema spettro di molte situazioni realistiche ma quello che ha Gemma non è cioè il fatto che Gemma si assisce che deve essere aiutata e non può essere aiutata lì dentro anche quella è una cosa sicuramente interessante le tematiche le dinamiche non innovative ma per una fiction per una fiction ci sono è una fiction che vive molto nel presente quindi da quel punto di vista ho poco da dire per cui potreste parlare qua per ore di Marefuori però penso che si sia capito qual è il punto quali sono le luci e le numerose ombre di questa serie quindi non posso dire che mi sia piaciuta il punto è che a me sembra che ti sia piaciuta non riesce ad ammetterlo ma non posso neanche dire che non mi abbia coinvolto profondamente è una fiction l'unica fiction che nella mia vita sia riuscita a incollarmi allo schermo fatemi sapere quindi cosa pensate voi di Marefuori tante cose non le ho potute dire ragazzi ma perché altrimenti non finivo più vabbè insomma mi è sembrato un po' paracura questa sua videorecezione nel senso che comunque è stato onesto è stato completamente onesto però non lo so ci vede un po' quello quello spettro dello snobismo di appassionato sapete anche io non amo diciamo il modello delle fiction in generale non l'amo nemmeno io però quando io guardo qualcosa di un mondo in genere di un modo di fare che solitamente non apprezzo e quel qualcosa riesce anche a colpirmi io rimango ancora più incuriosito come è successo ad esempio per la casa di carta per quanto concerne le prime due stagioni non è un genere che mi fa impazzire quello lì della casa di carta più che altro perché ha un tono da serie generalista spagnola però mi ha mi ha colpito all'inizio fino alla seconda stagione quindi il fatto che non appartenga al mio mondo me lo fa apprezzare ancora di più quindi insomma penso che la mia opinione su mare fuori si sia capita io sinceramente ho odorato seguirla penso che sia una delle serie che mi ha più incollato lo schermo come ha detto anche Victor trovo la prima stagione molto riuscita un po' meno la seconda un po' meno la terza e la quarta sono quelle che secondo me cadono più nel trash però in generale è una serie che si fa seguire e che ha anche molte buone frecce al suo arco tra l'altro è una colonna suona rastrepitosa l'ho già detto e quindi insomma chiaramente non condivido chi sostiene che c'è una delle serie più belle però però davvero io io leggo cose che non stanno ne in cielo ne in terra contro questa serie tipo che eh mi dite quale è la differenza tra questa e una SOP brasiliana ragazzi se questa vi sembra una SOP brasiliana secondo me non avete proprio gli standard di valutazione comunque sia questo era il video di Victor Laszlo 88 e la mia reaction al video di Victor Laszlo 88 dislike perché ha vendito no no peccato ragazzi like ciao ciao